Sì, cambiamoci i dite di l'altro Francesco e nel frattempo Mr. DJ ce l'ha una canzone un po' come dire... E' pronta? Prima ce n'è un'altra, questa non l'avevo messa ma dato che so che piace a molti di voi è una canzone degli U2 Chi vu ti fai dei? Ce l'ha? Vai che c'è? E poi rallentiamo i ritmi... Bisogna allungare la scaletta, sai quando non ci piace? Guarda, che io sono amante buona anche se la ricordi!